Ciao a tutte, bentornate sul canale e benvenute in questo nuovo video. Davanti a noi abbiamo il catalogo promozionale C17 di Stenum con offerte ordinabili da domani 15 novembre fino al 2 di dicembre. In copertina abbiamo già un piccolo spoiler o bag per Stenum ovunque con stile, un piccolo assaggio della nuovo programma fedeltà, scopri i prodotti coinvolti nella promozione a pagina 4. Io direi di aprire subito il catalogo per scoprire questo nuovo programma fedeltà ma soprattutto tutte le novità e super offerte che ci riserva Stenum. Ed eccoci a pagina 4, ovunque con stile. Scegli un prodotto set della nuova promozione in C17 ovvero questo catalogo e in C18 il prossimo e potrai acquistare in C18 l'iconica borsa o bag a soli 10,99€. La borsa è una shopper in elegante tessuto sintetico nero con logo o bag inciso sul fronte e pratici manici per indossarla con stile. Ha un'apertura con bottone magnetico e non ha tasche interne. Voltiamo pagina e scopriamo il primo prodotto ovvero il degreaser, il famosissimo sgrassatore concentrato stoviglie e superfici da un litro. E' un 2 in 1 perché è un detersivo che possiamo utilizzare per il lavaggio delle stoviglie ma anche come sgrassatore cucina sia puro che diluito. Elimina anche gli odori più persistenti e nessuno sgrassa meglio di lui. In offerta con 40% di sconto a soli 7,50€. Un altro prodotto sicuramente è Oven da 400ml ed è un pulitore forno con una formula potenziata in schiuma che scioglie il grasso ostinato in minor tempo. Grazie alla schiuma autoaderente ha una tenuta maggiore anche sulle superfici verticali e può essere utilizzato sia con forno caldo e sia a forno freddo. Col 40% di sconto a soli 7,50€. Per quanto riguarda Stenon Family Expert abbiamo il Delicate Soap che è un Sapon Sugar Pastic Free. E' una formula corta con solo 12 ingredienti ed è solido e delicato allo stesso tempo. Lo possiamo utilizzare per viso, corpo e mani 6,99€. Per quanto riguarda Chiotis abbiamo due prodotti alla lavanda. La prima è l'acqua floreale lenitiva che tonifica la pelle e la prepara a ricevere i trattamenti quotidiani. Lenisce le ritrazioni e la sensazione di pelle che tira. Per una pelle pulita è meno spenta, 200ml. E abbiamo anche l'acqua micellare della stessa linea struccante. E strucca occhi, labbra delicatamente lasciando una pelle pulita e radiosa. L'uno ha soli 7,90€ con 43% di sconto. Per quanto riguarda il make-up abbiamo Flormar con le sue Extra Tattoo Gel Pencil. Che sono matite in gel effetto tattoo. Hanno una lunga tenuta, non sbavano, un colore intenso e ultra pigmentato. E sono waterproof. 5 colorazioni disponibili a soli 8,90€ con 25% di sconto. Per quanto riguarda Dr. Pierricot abbiamo la crema lifting. Collo e decolleté alla vitamina B3 e biopolimere di mandorle dolci. 50ml con 32% di sconto. La pagheremo solo 18,90€. Abbiamo anche un altro super gadget. Che è la teglia a forno Master Pro. Una teglia a forno rettangolare Wave in acciaio al carbonio con rivestimento antiaderente. Ideale per le preparazioni dolci e salate. Ha una speciale fondo a trama groffata per una diffusione ottimale dell'aria e del calore. Ed è eccellenza e qualità in materiali resistenti all'usura filmata Master Pro. Come averla è molto semplice. Possiamo scegliere tra questi tre kit che sono uguali tra loro per due prodotti. Mentre il terzo cambia come profumazioni. Il prodotto che cambia è appunto il Multiflor. Che nel primo set troviamo la profumazione novità che è Pino Ghiacciato. Ed è un pulitore concentrato pavimenti lavabili. Nel secondo set troviamo la profumazione agrumi, basilico e menta. Mentre nell'ultimo troviamo la profumazione agrumi e fiori bianchi. In tutte e tre i set invece troviamo il Deep Gel. Che è un gel di sincrostante superfici bagno da 750 ml. E in più abbiamo Aquilaun. Che è un detersivo esperto, lana e delicati da 750 ml. Questo kit di tre prodotti lo avremo a 24,90 euro. Col 37% di sconto e come vi dicevo avremo in omaggio la teglia Wave by Master Pro. E in questa pagina finiscono tutti i prodotti che partecipano al programma FEDELTÀ. Continuiamo con i prodotti Stenom per la pulizia della casa. Vi avevo accennato nei kit che esce un nuovo Multiflor con la fragranza note di Pino. Il Multiflor è un pulitore concentrato, pavimenti lavabili e è in offerta a 9,90 euro e sono un litro. Un'altra novità è il Nostain, un prodotto che non c'era in Stenom. Che cos'è il Nostain? È uno spray espresso macchie tenaci. Pratico con un gesto espresso grazie al nebulizzatore. In questo caso troveremo sia il Nostain da 500 ml più trigger che il nebulizzatore per flacone di ricalica a soli 7,50 euro col 42% di sconto. Elimina con efficacia le macchie più difficili come le tracce di pennarelli, di matite colorate, di cera, gomma, dai muri e dal pavimento, eccetera. Adatto sia all'interno che all'esterno della casa. Io l'ho acquistato in anteprima e non vedo l'ora di provarlo. Se vi fa piacere vi posso fare un video dove lo proviamo insieme. Possiamo utilizzarlo insieme a Scrunchy Clow Blue che è una microfibra ad opatissitura per superfici lavabili. La prima superficie è a scacchi per grattare e pulire. La seconda è in bucle per assorbire e lucidare. Una doppia stessitura per un'efficacia forzata. 4 volte più efficace dei panni normali. 50% di sconto lo avremo a soli 6,25 euro. Continuiamo con il dry spray da 500 ml che è uno spray a secco disinfettante espresso presidio medico chirurgico. Lo avremo in offerta esclusiva 1 più 1 gratis a soli 12 euro. Quindi li pagheremo l'1-6 euro col 50% di sconto. Per tutte le superfici lavabili e non lavabili come sedili auto, scalpe da sport, tessuti da arredo, telefono, telecomando. Elimina in pochi minuti il 99,9% dei batteri e funghi. Per i materiali abbiamo un prodotto per un argento splendente per 45 giorni. Sto parlando di Silver che è una crema antiossidante sia per argento, chrome e silver plate. 250 ml lascia una pellicola protettiva che previne l'ossidazione. Col 29% di sconto lo pagheremo solo 9,90 euro. Ritorniamo ai pavimenti, quindi lo possiamo utilizzare benissimo con il multi floor che vi ho fatto vedere. È il top swing con lo slimely hand. Il top swing è la testa a frange super assorbente. Frange con sezione a stella per catturare una grande quantità d'acqua e di residui di ogni tipo. A 14,90 euro naturalmente possiamo abbinarlo al suo manico telescopico che si adatta alla vostra altezza e si ripone facilmente grazie al gancio integrato. Si allunga fino a 140 cm e lo avremo a soli 13,90 euro. Passiamo ai deodoranti e abbiamo gli Steinwick. Gli Steinwick sono deodoranti con lo stoppino per ambienti. Li abbiamo in 4 profumazioni differenti, a soli 7,45 euro l'uno con il 43% di sconto. Vi è cattivadori più a lungo, assorbe anche gli odori più tenaci come quelli del WC, fritto e fumo. E durano fino a 3 mesi. Passiamo al bucato. Vi lascio qua nelle schede il video dove vi mostro tutti i prodotti che utilizzo per il bucato marchiati Stenum. E abbiamo in offerta il Color to Color, che è un additivo di lavaggio, protezione e colore. Evita la cernica del bucato, lascia i colori più intensi grazie a uno speciale polimero che mantiene in sospensione le particelle di colore, evitando che si dedepositano sulle fippe. A 11,50 euro un litro di prodotto. I day wash sono in offerta due a soli 14,90 euro. Quindi l'uno lo pagheremo 7,45 euro. Sono detersivo bucato bianco e colorati da un litro e mezzo in tre profumazioni differenti. Possiamo sceglierne due uguali o diversi tra loro. Una super offerta è sui dry fresh, che sono elimina pieghe e rinfrescano il bucato. Spruzzalo sui capi anche per rinfrescarli e per lasciare una piacevole fragranza. Facilitano e in alcuni casi evitano la stiratura. Addio pieghe. Vi lascio qua il video dove lo proviamo insieme. E lo avremo in offerta 3 a soli 19,99 euro con 50% di sconto. Quindi l'uno lo pagheremo solo 6,66 euro. Continuiamo con i prodotti per lo spolvero. Abbiamo il Dust Away, che è uno spray spolvero, mobili ed altre superfici. Utilizzalo con Dust Trigger, che come vedete è in offerta 7 insieme al prodotto a 9,90 euro. Elimina e ritarda il ridepositarsi della polvere nel rispetto delle pelli sensibili. E lo possiamo utilizzare con Dust Close, che è un panno in microfibra, spolvero, un tessuto double fast, fibre corte per le superfici lisce e fibre lunghe per raggiungere gli spazi più piccoli. 8,50 euro col 32% di sconto. Cattura una grande quantità di polvere in una sola passata. Passiamo a un prodotto per la pulizia dei caminetti e dei barbecue. Un pulitore 2 in 1, pulisce in profondità camini, stufe e griglie, eliminando efficacemente fulligine e grasso bruciato. In offerta 11,90 euro. Per i vetri abbiamo il famosissimo Wine Dose Spray, una formula speciale Stellar per finestre splendenti più a lungo. È un pulitore vetri antidepusitante e l'abbiamo in offerta set con il suo panno Electra Shine, che è un panno anti-aloni, vetri e superficie vetrate. Tutte e due a soli 16,90 euro col 32% di sconto. Ritorniamo alla cucina e abbiamo in offerta lo Shine Booster, che è un brillantante lavastoviglie 750 ml. Aiuta nella fase di risciacquo delle stoviglie e in superficie ed è efficace anche a basse temperature. 9,50 euro e sono 750 ml. Per pulire le superfici della cucina abbiamo Sort Plus, che è un panno in microfibra a pulizia cucina. Asciuga le superfici senza lasciare arroni, rimuove lo sporco e assorbe i grassi e i lipidi in una sola passata, a 8,50 euro. Passiamo alla linea Stenon Family Expert e abbiamo in offerta questo set, con all'interno l'Orpul Pulse, che è il nostro cremone, una crema ricca nutriente che protegge e previene la disidratazione della pelle quotidianamente, e sono 300 ml. Più M Gel, che è un gel detergente in mani senza risciacquo da 50 ml, tutte e due a 16,90 euro col 31% di sconto. Più Arnica Gel, che è il gel all'arnica da 50 ml, un sollievo immediato assicurato allieva il dolore e lenisce il fastidio, 5,90 euro a 50 ml. Per i piedi abbiamo l'antitraspirante piedi Medinist Deo, 100 ml 6,90 euro. E per gli amanti del leo sport, ma anche gli uomini, abbiamo lo Shower Gel 2 in 1 Sport, 200 ml, è un gel doccia purificante 2 in 1 corpo e capelli, 200 ml 7,90 euro con principio attivo anti-odor. Altri prodotti per i piedi sono ad esempio Nutri Reparation, che è una crema 2 in 1 nutriente riparato, 8,90 euro a 75 ml, e poi abbiamo Fresh Exfoliation, che esfolia e rinfresca i piedi, 75 ml 7,50 euro, e infine Fit Bat 100 ml, che è un pediluvio rilassante, ed è un sollievo e lenisce sempre a 7,50 euro 100 ml. Da utilizzare sia sotto la doccia che dopo la doccia, abbiamo Fluid Duo, che idrata immediatamente e per 24 ore. 7,99 euro e sono 250 ml. Al prezzo più basso dell'anno, la formula è migliorata perché ha il 98% di ingredienti di origine naturale, e il 99% di ingredienti biodegradabili. In offerta abbiamo i deodoranti a spray 48 ore, 3 profumazioni diverse, e possiamo avere 2 a soli 13,90 euro, quindi pagarlo l'1, 6,95 euro, mentre se ne acquistiamo 4, li avremo a 23 euro, quindi l'1 a 5,75 euro, col 50% di sconto. Passiamo ai capelli, e abbiamo in offerta 1 più 1 gratis, e fette esclusive, i Family Shampoo. Li possiamo scegliere uguali o diversi tra loro, abbiamo sia quello alle mandorle dolci, e sia quello alla vena. Adatto ai lavaggi più frequenti, detergono e proteggono, ed è adatto per tutta la famiglia. Due li avremo a soli 12 euro, quindi l'uno lo pagheremo 6 euro. All'interno ci sono 400 ml di prodotto. Due prodotti indispensabili per l'inverno, e per le nostre mani, sicuramente sono NutriHand, che è un balsamo nutriente, effetto barriera, per mani molto secche, 50 ml a 4,90 euro, e poi abbiamo l'Uinter Balm, che è un balsamo mani grande e freddo, mani molto secche e rovinate. Massima protezione del freddo, 5,50 euro. Passiamo a Chiotis, e al prezzo più basso dell'anno, abbiamo l'Eso Glimmer Essentiel, con olio essenziale di rosa. Da solo ho mescolato nel fondotinta, questo trattamento è ricco di madrepelle rosate, che donano alla pelle radiosità, freschezza e luminosità. 30 ml a soli 13,50 euro. Continuiamo con l'esfoliante purificante, da 50 ml all'olio essenziale di lavanda, all'interno dei granuli esfolianti, a base di polvere di nocciolo, di alpicocca. 50 ml a solo 8,90 euro, e lo possiamo utilizzare come primo step. Come secondo step abbiamo le maschere delle diverse linee Chiotis. La prima è la maschera gel idratante della linea Hydra Space 50 ml, poi abbiamo la maschera a carbone detossificante 50 ml della linea Defi Detox, che è un'azione anti-imperfezione, e poi abbiamo l'ultima maschera, che è la maschera luminosità istantanea, un'azione rinvigorente e illuminante, della linea Energy Peps. Tutte e tre sono da 50 ml, e l'una lo pagheremo 8,90 euro. Dei rituali abbiamo la collezione di Natale, che è alla noce moscata e vaniglia, il latte corpo profumato da 150 ml, 9,90 euro, e poi abbiamo il gel dolce profumato, 7,90 euro, e sono 150 ml. Passiamo agli uomini, e abbiamo due set molto interessanti, e secondo me adatti come idea regalo. Il primo è il profumo Vertiche, da 100 ml, più il suo gel dolce a corpo e capelli, a 24,90 euro, il gel dolce da 200 ml, e abbiamo anche il set, sempre a 24,90 euro, della profumazione Venture Desert. Passiamo a due set anche per lei, nel primo set abbiamo Pure Considence, 50 ml, più il suo gel dolce da 200 ml, a 24,90 euro, stessa cosa per Sexy Rouge. Come integratori alimentari ne abbiamo tre, il primo è il Detox, poi abbiamo quello Relax, e infine abbiamo quello Bellezza Pelle. Sono senza glutine, una formula sviluppata dalla Naturopata, e sono vegan. Un mese di trattamento, 20,91 euro. Della linea Chenesse Revelee, che è quella linea con olio essenziale di Iris e Cisto, abbiamo l'olio in perle. Ogni perla contiene un olio ricco, che rinnova la pelle, rendendola luminosa, e visibilmente più giovane. All'interno ci sono 42 perle, da utilizzare per due trattamenti al giorno, 27,90 euro. Della stessa linea abbiamo il balsamo struccante, da 100 ml, il nuovo balsamo che strucca perfettamente, viso, occhi e labbra, rimuove anche il trucco waterproof, 45% di sconto, 10,90 euro. Vi lascio nelle schede i video, dove ve lo recensisco, e dove ci strucchiamo insieme. Abbiamo anche in offerta della linea Hydra Splash Water Drop, idratante 48 ore al giorno, da 50 ml, ha una texone innovativa, per una pelle idratata, morbida ed elastica, 46% di sconto, a soli 14,90 euro. Una linea con olio essenziale di Neroli, e di zenzero. Passiamo alla linea Dottor Pierricot, abbiamo un prodotto 3 in 1, perché dona la pelle idratazione, la rende più liscia e più tonica. Sto parlando del latte corpo, ha gli alfa idrosiacidi, oligosidi di Mila, idratante, levigante e tonificante, 195 ml, a soli 13,50 euro. Continuiamo con la linea trattamento antimacchie, in questa linea abbiamo il sieroattivatore rivitalizzante, rivitalizzante 42,90 euro a 30 ml, e abbiamo la crema 40 ml a 39,90 euro. Le possiamo acquistare anche in offerta set, siero più crema a soli 70 euro. Un'altra linea è la linea lifting rassodante, all'interno di questa linea abbiamo il sieroattivatore niacidamide, con frazione pura di lino e anneto, 30 ml a 47,90 euro. Di questa linea abbiamo anche il contorno occhi, 15 ml a 17,50 euro, e in edizione limitata abbiamo la maschera lifting effetto tensore rapido, 50 ml a soli 17,90 euro. Un'altra linea è il trattamento levigante anti rughe, in questa linea abbiamo la maschera anti rughe, barriera antistress 40 ml, e 4 gli acidi gialuronici, 17,90 euro. Il contorno occhi 15 ml sempre a 17,90 euro. E poi abbiamo la crema anti rughe riempitiva 40 ml a soli 45 euro. Un altro prodotto al prezzo più basso dell'anno è il latte struccante micellare 2 in 1. Funge anche da tonico, viso e occhi, ai probiotici riequilibranti. 8,50 euro. Passiamo alla linea base levigante. Abbiamo due prodotti, il primo è il contorno occhi, ai biopolimeri di mandorle dolci e descina, 15 ml a 16,90 euro, e il fluido levigante da 30 ml a 20,90 euro. Per quanto riguarda il make up, abbiamo il fondotinta in siero all'acido gialuronico, appunto ha un texture in siero che si fonde perfettamente con la pelle e dona un incarnato perfetto, levigato uniforme ed ha un effetto antietà. 4 colorazioni disponibili, 30 ml a soli 22,90 euro. E per quanto riguarda il make up, abbiamo la linea Flormar. Come primo prodotto ne abbiamo uno in edizione limitata ed è lo spray pistante make up effetto matte o dei fix setting spray matte. 125 ml, ha una texture leggera e impercettibile, adatto a tutte le tipologie di pelle e dona un finish matte. con estratto di camomilla e cetriolo, adatto particolarmente a pelli miste e grasse e che tendono a lucidarsi facilmente. 8,90 euro. Per gli occhi abbiamo le midnight matte eyeliner, che sono eyeliner in penna opachi, 4 colorazioni disponibili, non sbavano e hanno un'asciugatura rapida. 8,91 euro. E per le ciglia abbiamo in offerta il Precise Curve Mascara. Mascara ciglia curve e volume e da definizione anche, è un'idratante nutriente grazie alla formula arricchita di olio di argan. E lo troviamo in offerta a 15,90 euro. Per look molto semplici e veloci abbiamo i Color Shadow Stick, ombretti stilo occhi. Abbiamo 6 colorazioni disponibili, hanno un finish cremoso, una texture uniforme, sono a lunga tenuta e sono un prodotto molto sicuro anche per gli occhi sensibili. L'uno ha 11,90 euro. Passiamo alle labbra, soprattutto per chi vuole un effetto rugiada glossato, abbiamo i Daily Lip Lace, che sono lucida labbra, con il finish glossy, è una texture in gel. Disponibili in 8 colorazioni, a 7,50 euro l'uno. Per definire le nostre labbra abbiamo anche le Waterproof Leap Liner, che appunto sono waterproof, hanno una copertura da medio alta, una texture confortevole, sono a lunga tenuta. 7 colorazioni disponibili, l'una a 5,90 euro, ma possiamo comprarne due in offerta a 7,90 euro, quindi pagarla l'uno solo 3,95 euro. Passiamo al viso e non possiamo non partire dai primer, ne abbiamo 3 disponibili. Il primo è il Pore Minimizer, che è un primer minimizza pori, adatto a pelli normali, miste e grasse. Poi abbiamo l'Anti-Blemish Makeup Primer, un primer anti-imperfezione, riduce i rossori ed adatto a pelli miste, normali, grasse e a tendenza acneica. E infine abbiamo l'ultimo, adatto a pelli secche, normali e miste, ovvero l'Illuminating Makeup Primer Plus Plus, un primer che nutre e illumina. L'uno ha 9,90 euro e all'interno abbiamo 35 ml di prodotto. Dopo il primer, non poteva mancare il fondotinta, ed è il Perfect Coverage Foundation, un fondotinta a copertura perfetta, 4 colorazioni disponibili, SPF 15, hanno una texture cremosa e setosa, dona un incornato uniforme, radioso e impeccabile, fino a 12 ore. Vi lascio nelle schede il video dove lo proviamo insieme. è il Perfect Coverage Liquid Concealer, un correttore liquido, 3 colorazioni disponibili, copre le imperfezioni e le discomie della pelle, riduce i gonfiori peculari e li illumina. Ha una tessura liquida, una copertura da media modulabile, ed è adatto a tutte le tipologie di pelle. 7,90€. Per fissare il tutto, non può mancare l'Invisible Lose Powder, una cipria libera, trasparente, un finish setoso, effetto matte, in polvere libera, che fissa il make-up e assicura una lunga durata. 18 grammi di prodotto, quindi ce n'è parecchio, a 14,90€. E per dare un tocco e brillare sotto le peste, abbiamo i Baked Blush On, un blush cotto, effetto illuminante, che dona un colorito radioso e un aspetto sano. 6 colorazioni disponibili, a soli 10,90€. E finiamo i prodotti Flormar con le unghie e abbiamo i Geli Rook, degli smalti unghie, effetto gel. Sono a lunga durata, hanno un pennello più largo per una facile applicazione e un finish professionale, effetto gel. Tantissime colorazioni disponibili, l'uno ha soli 4,99€. E chiudiamo il catalogo con questa super offerta per spolverare. stiamo parlando del Quick Polish, che è un pulitore e divina polvere protettivo multisuperfrice. Ha una profumazione fresca e floreale ed ha grumi frizzanti e lascia una pellicola protettiva contro la polvere, impronte e macchie d'acqua, ideale per le pulizie dei mobili. Col 50% di sconto lo pagheremo solo 6,75€ e sono 400ml di prodotto. E con questo chiudiamo il catalogo C17 di Stenom. Se volete diventare Stenom Smile e avere il 18% di sconto su tutti i prodotti, basta andare nell'info box, trovate il link Diventa Smile, compilate i vostri dati e nel codice presentatrice inserite il mio, così posso affiancarvi e aiutarvi ad entrare. Per qualsiasi informazione potete scrivermi qua sotto nei commenti oppure mi trovate su Facebook e Instagram dove pubblico spesso foto, post, story e reel. Vi aspetto anche lì. Se non lo siete ancora iscrivetevi al canale e azionate la campanella così da non perdere nessuno dei miei video e se questo video vi è piaciuto e volete sfogliare ancora insieme a me il casale Auguste Ternom lasciate un bel pollice in su ed è anche un piccolo modo per aiutare a crescere questo piccolo spazio. Io vi ringrazio in anticipo. vi mando un grande bacio e ci vediamo presto con il nuovo video. Ciao! Ciao!